In lontananza e in arrivo al secondo binario, il treno, si nota già il fumo, raggiungere alto in questo momento, siamo a poche centinaia di metri, l'attesa naturalmente sale, stazione di Aviano pronta a un grande applauso, facciamo tutti un grandissimo applauso, ritorna la Sacile Gemona, ritorna la ferrovia, riapre la stazione di Aviano e 10 dicembre 2017, l'applauso della cittadinanza di Aviano per il ritorno, come già avvenuto nel 28 ottobre 1930, torna il treno, l'applauso di Aviano per il ritorno della Sacile Gemona, la ferrovia della Pedemontana torna a vivere, benvenuti ad Aviano, bentornata la Sacile Gemona, Aviano accoglie il ritorno qui ad Aviano, benvenuti ad Aviano, Sacile Gemona, ritorna qui a vivere, la sosta e quindi l'applauso, benvenuti ad Aviano, migliaia di persone sono presenti qui quest'oggi, e quindi